Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto dell'e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Allora allora qua potremmo andare retail o da tomato pure non è mai andare a tomato e poi ci spostiamo sull'isola perché ora tutti vanno all'isola, poi andiamo all'isola a lazy links e facciamo una strage che dite? Oh regà dobbiamo andare proprio a cazzo violento eh Vai vai Che la cassa Margeo che la lascio a te però Come funziona il torneo? Praticamente tutta la community può fare dei punti e i primi 3 se non fallo giusto vincono i v-bugs? No 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 Tutte le persone che hanno partecipato vincono i v-bugs da quello che ho capito io Tutti tutti? Eh sì da quello che ho capito io tutti Cioè anche se arriva ultima la community Sì no aspetta devi stare in top 10 cioè se io sono in top 10 Dopo c'è guadagno i v-bugs da dare In più ci sono 3 pc in palio Ok ok Io non uso i pc eh raga Eh quelli si vengono sorteggiati casualmente Dai sto scherzando Ma faccio dai 200.000 ma che cazzo vuol dire? È per quello che faccio Ragazzi io ho tre pozzetti ai 50 Allora che facciamo? Andiamo al cubo? Così voliamo e decidiamo che fare Vai Mi va? Vai si può andare si può andare Io ho tre granate sono pronte Ma è body is ready Guarda quello che vuole all'inizio Lo vedi quello che sta dando impicchiata tipo 3 Ma fai a partecipare? Se vai nella live di Gio No non è vero in realtà Dovrebbe andare anche da Basta installare overwolf E l'estensione di alienware Ma non so dov'è lui Io non lo vedo Eh ma il cubo lo prende tutto Ah quelli macchia quelli macchia Spara il cubo Oddio è volato via Sputato Gio 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 qua Vicino Ci si lancio Ci spado da sopra Buona macchina raga prendiamo le pietre seguiamogli sopra ho uno che vola lo vedete questi cazzi io sto andando su che è un altro non c'è cazzi davanti a me oddio l'ho scopato vai ragazzi andiamo di cosa proiettili del 91 totali non so se voi ne avete di più io ne ho 100 chi è questo che ha aperto il paracadute un gira l'esilinx l'abbiamo già visto il team d'alesi quindi andiamo a dusty di potno vado in picchiata poi apro il paracadute risalgo così mi dà il busto la schiena è troppo bella raga by the way raga entra dentro da sti dipot se riuscite volando sono a sud eh? si 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 li vedo stanno build fightando stanno build fightando spara con il lancio l'azio alle basi raga vai vai tira le granate tu ma cosa cazzo si regge quella cosa uno mi ha aiutato qua la morte andiamo da una ma se da solo un gioco su vari l'ho ucciso io l'ho ucciso io ho bisogno di cazzi still quindi io ne dieci i ragazzi siamo cattivissimi comunque dobbiamo prendere la shadow form qui e andiamo io c'ho uno slot libero eh se qualcuno eh c'erano le granate giù non so se qualcuno le ha presa non so come vengono divisi i v-box eh quello non lo so forse in base al punteggio della community non lo so va ragazzi prendiamo la shadow form io direi possiamo andare pure a ovest o a nord li possiamo ricercare a nord eh ok magari qualcuno da tilted non lo so dobbiamo andare in giro e cercare raga possiamo pure splittarci un secondo raga e direi riprendiamole io sto controllando tilted ma non vedo vieni vieni torna indietro riprendiamo le pietre e andiamo a verso solti io jump adesso volete vieni qua allora ammetterlo che lo usiamo con le pietre noi ti facciamo il bagno oh mio dio che hai fatto? ti è finita la pietra? mi è finita la pietra in metà volo volo vai vai verso dove? eh verso sud vedo delle costruzioni sopra degli edifici cioè sopra delle colline vai raga vabbè ho preso la cacca ho preso un'altra sto 2000 raga sono a boi sono eccole qua dentro fat gamer qua dentro raga sono morto tipo sono morto non è vero non è vero è fatal arriva arrivo un altro fate lo che deve no merda cadono Buono Una skin rossa forse qua in mezzo raga Esce Preve preso La cativeria Prendiamo shadow form e bounce Bravo bravo mi piace così aggressivo Easy Ragazzi mi hai destilato due kill che erano a 30 HP Ah è perché ho preso il coso Anch'io Io non l'ho fatta una qua Io sono riuscito a farne forse due Forse due Non ne vedo manco una io Ne ho visto una qua dietro mi pare C'è una dietro la roccia Vai Ok Ok Oh blink io riprendo il jump qua Guarda ce l'ho sotto Jump Sì no no ma ho preso un altro jump Vieni andiamo a nord ovest Marza c'è la sopra Eh io ho beccato la casa da un po' di Marza ti andavo da un po' di sopra raga Hai high ground now Hai un secondo qua Dimo posso far cadere tutto? No Sì sì vieta 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 Posso cadere tutto È sotto Scacato Thank you man Molto sto di te Non li vedo morto mamma mia ragazza malissimo ragazzo non può capire che gli ho fatto io ho fatto 30 una volta no no ce l'abbiamo davanti rega metto la pedana vai lo pusho lo pusho lo l'orsetto fatto l'orsetto io mi curo vado quei razzi ma è uno non capisca più di uno vabbè c'è la marzone bravo marzone l'hai scurato giulati dietro scusate lo stilato gg boi gg boi minchia raga ma che il cazzo di che mi abbiamo fatto tutto così di corsa abbiamo regalo 95 25 però buone sono buone sono buone regala zona era enorme buono buono abbiamo corso come dei matti bravi bravi 40 punti dalla vittoria ma di punti let's go ciao 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 ciao